Una gara tra compagnie tetrali che si fronteggeranno a sondi spettacoli. A Nocera Inferiore è stata annunciata la prima rassegna di teatro amatoriale dal titolo Il teatro nelle terre del sole e che ospiterà alcune compagnie scelte da una giuria che esaminerà diversi spettacoli che, una volta scelti, andranno poi in scena durante la prossima stagione invernare al Teatro Comunale Diana di Nocera Inferiore. È la prima rassegna concorso al Teatro Comunale Diana e ha il titolo Il teatro nelle terre del sole. È una rassegna concorso nel senso che tutte le compagnie amatoriali potranno partecipare scrivendosi tramite domanda di partecipazione ed è esteso a tutte le regioni d'Italia, da Lazio in giù, isole comprese. Finalità della rassegna è rendere quanto più possibile fruibile il teatro a 365 gradi per tutte le persone perché io dico sempre che il teatro amatoriale non significa teatro scadente ci sono delle compagnie amatoriali che lavorano veramente bene sono persone che nella vita hanno scelto un altro lavoro ma hanno questa passione che li fa recitare, li fa fare dei tour di forza esagerato ma riescono a mettere su dei belli spettacoli gradevoli da vedere.